Musica Ebbene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui in un video appunto dove vi illustrerò le possibili squadre con cui iniziare la carriera allenatoria su FIFA 19 Prima di iniziare vi dico che a questa scelta potete partecipare anche voi votando la squadra sopra nelle schede E io ho in mente di fare oltre la carriera allenatore giocata, di fare anche una carriera allenatore totalmente simulata Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con questa scelta Oppure no? Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti E detto questo iniziamo subito con vi elenco le squadre Allora la prima squadra con cui vorrei fare la carriera è il Napoli Con un budget di 46 milioni di euro I giocatori chiave sono Milik, Insigne, Mertens, Caleon E questa appunto è la prima squadra con cui vorrei fare la carriera allenatore Seconda squadra abbiamo il Milan con un budget di quasi il doppio di quello del Napoli Ovvero 88 milioni di euro Con i giocatori chiave che sono Cutrone, Higuain, Ciananoglu e i vari giocatori Poi come terza squadra abbiamo la Juventus Squadra che è tifo Con un budget di 93 milioni E con i giocatori chiave Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Manzovic e gli altri vari La quarta squadra è l'Inter Con un budget quasi vicino a quello del Napoli Che è di 44 milioni di euro Con i giocatori chiave che sono Lautaro Martinez, Mauro Riccardi, Keita Bald E poi scendiamo un po' di prestigio E ora c'è il Bologna Bologna con un budget di 12 milioni e 500 mila euro Con i giocatori chiave i quali Orsolino Orsolini, scusate, Palacio Poi squadra è l'Atalanta Con un budget di 8 milioni e 700 mila euro Con i giocatori chiave quali il Papu Duman Zapata, nuovo acquisto di quest'anno E infine, ma non ve l'importanza, la Roma Con un budget di 45 milioni di euro Ovvero un milione in più rispetto al budget dell'Inter Con i giocatori chiave che sono Dzeko, Kluivert e molti altri Detto questo, votate sopra nelle schede La squadra con cui volete che inizi la carriera E fatemi sapere anche qui sotto la vostra Riguardante la carriera totalmente simulata Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale Lasciate un like E noi ci vediamo al prossimo video E ciao 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 Grazie a tutti